Eccoci qui, buona domenica, un po' in ritardo, buona giornata a tutti, ci avviciniamo alla fase 2 però facendo un attimo uno sguardo a quello che succede in tante città italiane, sui social e anche dal vivo Possiamo dire che la fase 2 è già iniziata, tanta gente in giro come se si fosse tornati a una normalità che però non c'è e non bisogna assolutamente allentare la presa perché da domani sarà ancora più rischioso con tante riaperture Quindi precauzioni al massimo, guanti, mascherine, distanze di sicurezza, uscite solo se veramente necessario e per le finalità consentite dal decreto del primo ministro su cui ci sono ancora tantissime polemiche Per tante definizioni e situazioni che appaiono poco comprensibili così come la definizione di congiunti, il rebus delle seconde case, le varie ordinanze delle regioni che in alcuni casi riaprono di più rispetto a quanto deciso dal governo In altri meno, insomma bisogna fare tantissima attenzione in tutta questa confusione generale e anche perché ho visto tante situazioni al limite Addirittura gruppi di bambini, una decina giocare insieme ai parchi giochi e addirittura in un campo di calcetto Insomma non si possono fare ancora queste cose, se no si riaprirebbero scuole e asili e tutto sarebbe molto più semplice Il problema è che il virus è ancora vivo e vegeto come dimostrano i numeri e a questo proposito che vi dico prendiamo sempre con molta cautela i numeri che vengono forniti Ieri non si è capito come i decessi da coronavirus sono arrivati a quasi 500 di nuovo perché appunto c'è l'influenza di altri numeri non comunicati da parte della regione Lombardia 280 che non ne risultavano e quindi stiamo sempre con grande attenzione sul chi va là Per quanto riguarda il calcio anche la Lombardia sembra pronta a concedere come le altre regioni che l'hanno fatto il permesso alle squadre di calcio di allenarsi nei loro centri individualmente o a piccoli gruppi con precauzioni da seguire e non fa che amplificare la situazione, la confusione di un provvedimento che vi abbiamo detto subito che non stava in piedi perché sono sicuramente molto più in sicurezza i giocatori nei loro centri di allenamento che spesso hanno decine di campi dove possono anche allenarsi da soli e quindi andiamo passo per passo con anche Spadafora che il ministro dello sport potrebbe come leggiamo su Sport Mediaset fare un cambiamento portare a un cambiamento il ministro per lo sport Spadafora ha scritto una lettera al comitato tecnico scientifico della protezione civile a seguito delle ordinanze regionali chiedendo di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelli degli atleti degli sport di squadra una risposta del CTS attesa a breve il calcio italiano vuole ripartire a più presto e diverse squadre hanno annunciato la ripresa degli allenamenti a partire dalla prossima settimana vi ricordate l'Emilia Romagna prima su tutti ha consentito a Parma, Bologna, Sassuolo e Spaldi riprendere le attività lo stesso dovrebbe fare la regione Campania con Napoli a Castelvorturno il Lazio per Roma e Lazio anche sembra che vada su questa stessa linea e anche la Lombardia nelle ultime ore dovrebbe dare il suo ok così creando confusione Lecce per esempio ha protestato per questa situazione e beh chiaramente bisogna avere regole uguali per tutti anche la Sardegna ok gli allenamenti individuali dei calciatori il Parma tornerà già da allenarsi da domani Lecce che grida disparità ingiusta tornare ad allenarsi allo stato attuale no è un tema giusto da toccare detto il presidente del Lecce Savero Stichidamiani ma in questo momento il fatto che alcune regioni autonomamente consentano di ripartire attraverso allenamenti individuali laddove ce ne sono altre con atteggiamento più prudente genera una disparità ingiusta sarebbe bello che non ci fossero slanci in avanti non devono esserci avvantaggiati lo stesso allenatore della Fiorentina Iachini ha detto antipatico se qualcuno parte prima cose che avevamo già detto ancora prima che si diffondessero e naturalmente bisogna trovare un'uniformità per garantire le stesse misure per tutti e a questo punto direi che quella norma che vietava gli atleti degli sport di scuola di allenarsi nei centri sportivi bisogna rivederla per permettere a tutti di riprendere l'attività soprattutto in vista di una ripresa che per molti è necessaria il mio punto di vista lo conoscete in sicurezza bisogna ripartire anche perché credo che a settembre cambi poco non ci sarà ancora il vaccino e quindi come riaprono tante filiere tante attività più o meno indispensabili è giusto farlo anche con il calcio che è un'industria molto importante non solo dal punto di vista diciamo economico ma viste anche i protocolli di sicurezza studiati e quello che poi sarebbero gli atleti sotto grande osservazione e con tanti esami test in centri più sanificati insomma penso che bisogna provare a ricominciare a ripartire anche per evitare una crisi economica che porterà alla possibile chiusura in caso di una ripartenza fallimento di tante squadre insomma bisogna cercare anche qui di fare qualcosa con la testa con la tutela della salute prima di tutto e seguendo quello che dicono gli esperti i medici a tutti i vari livelli calciomercato fermo in questo momento ci sono tante trattative che si stanno portando avanti però nulla di veramente concreto perché da come e se ripartirà la stagione tutto dipenderà pensate ad esempio il Barcellona dovesse vincere la Champions avrebbe soldi in più e non avrebbe problemi magari anche a pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez i 111 milioni oppure se non si dovesse ripartire non ci saranno fondi tante squadre in crisi potranno fare solo scambi tante alternative e tante trattative che si ipotizzavano potrebbero venire stoppate dalla crisi economica oppure mettiamo caso che il Barcellona vincesse la Champions e Messi soddisfatto per essere arrivato a questa vittoria dicessero di salutare tutti potrebbe succedere perché no o al contrario una grande delusione anche qui potrebbe portare ai saluti un'altra stagione senza Champions potrebbe portare Messi a prendere un'altra strada questo per quanto riguarda Messi ma condizionamenti ci potrebbero essere per tutte le trattative quello che ci sembra di aver capito è che Timo Werner il profilo che piace di più in caso di una partenza di Lautaro Martinez e in questo senso l'Inter vuole tenere monitorata la situazione anche lì c'è questa clausola da 60 milioni che vale fino a metà giugno sono tantissimi soldi soprattutto in questo momento molto dipenderà da una ripartenza da come si finirà la stagione però da quello che abbiamo capito l'Inter vorrebbe provare a inserire nella trattativa dei giocatori per andare a parlare con il Lipsia e abbassare la quota cash una situazione che si verificherà quasi per ogni tipo di trattative scambi fantasiosi per cercare di superare la crisi come vi avevamo anticipato da Sport Mediaset Lazzaro potrebbe essere una carta importante anche tutto sport tra poco lo leggeremo in prima pagina riporta la nostra anticipazione con 3,5 più 23 circa era la sua valutazione riscatto stabilito con il Newcastle un giocatore che ha sempre tanti estimatori in Bundesliga che Lipsia già lo voleva a gennaio quindi potrebbe essere anche una soluzione lo stesso Persic se non venisse riscattato dal Bayern di Monaco anche se non è un profilo giovane come piace la Red Bull di Lipsia potrebbe essere anche un giocatore che potrebbe finire in questo pacchetto tutto da verificare da vedere sono appunto tante le ipotesi le possibilità si torna a parlare anche di Pogba noi abbiamo abbastanza provato a fare delle verifiche e in questo momento ci sembra molto difficile anche se oggi la prima pagina della Gazzetta dello Sport un affare che sarebbe molto rilevante da un punto di vista soprattutto economico bisognerebbe trovare una contropartita tecnica per abbassare gli almeno 80 milioni se non di più che chiede il Manchester United e non sarebbe sicuramente facile noi avevamo ipotizzato il fatto che ci potesse essere un Eriksen forse uno dei pochi che potrebbe interessare al Manchester United qualcuno mi ha fatto notare magari che Brozovic potrebbe essere un giocatore che interessa molto il Manchester United si era parlato anche di Godin qualche tempo fa come rinforzo per la difesa però poi leggeremo anche le sue parole molto importanti sul Corriere dello Sport che non ha nessuna intenzione di cambiare maglia anzi vuole cercare di vincere qualcosa con l'Inter per quanto riguarda l'operazione Pogba che campeggia nella prima pagina della Gazzetta dello Sport è qualcosa di molto molto difficile anche visto un ingaggio da 17 milioni erotti del giocatore che ne vorrebbe penso anche di più per andare a cambiare maglia una però eventualità sempre più possibile al momento che come avevamo detto e da qui sono iniziate a diventare molto molto più frequenti le voci i rumors di mercato su Pogba da quando United ha deciso di non rinnovare automaticamente il contratto in scadenza giugno 2021 chiaramente si parla di una dipartita di Pogba e allora andiamo a leggere proprio la Gazzetta dello Sport che titola Domino Pogba e questa ennesima possibile sfida tra Inter e Juventus sul mercato per uno dei centrocampisti più forti come conoscono bene sia Marotta che era stato il principale artefice sia del suo arrivo che della sua vendita al Manchester United e poi anche Antonio Ponte che l'aveva fatto crescere molto Zhang vuole un top player gli AD Di Cardi e Persic possono portare i milioni per sfidare la Juve nella corsa al francese se parte Lautaro più Werner di Cavani come vedete insomma la Gazzetta in copertina le ha messi tutti quindi qualcuno dovrà per forza indovinarlo ha messo Werner ha messo oggi Pogba Messi Griezmann Cavani Mertens insomma ha dimostrazione che vale un po' tutto in questo momento e le vere trattative partiranno quando si capirà come e se si finirà la stagione come vi dicevo in apertura di questo video Zhang Progetto Pogba vuole un top l'Inter ha un tesoro per sfidare la Juve e agganciare Paul il tesoro però ancora tutto da definire bisogna vedere intanto se da qui a fine mese ora che siamo entrati nel mese di maggio con il Paris Saint Germain già campione di Francia stagione finita per il Paris Saint Germain che invece aspetta la Champions League cosa deciderà di fare Leonardo se riscatterà quei 70 milioni stabiliti magari chiedendo uno sconto l'ex capitano Nerazzurro che aveva brillato nei giorni scorsi mettendo un like al post di Bojan Kerkic contro diciamo l'Inter del triplete pandemia che tutte le certezze porta via che estate sarà che mercato sarà quali giocatori realmente si muoveranno con una domanda però si può già adesso con certezza aver risposta sarà ancora Juve-Inter inevitabilmente verso l'infinito e oltre al di là di ogni ragionevole dubbio è fatale che i due club si scontrino è stato così per Kulusevski è così pure sotto traccia per Chiesa non c'è da stupirsi dunque se nelle liste più o meno segrete le due società compaiono una WP che non è un codice cifrato ma sono gli iniziali di Paul Pogba il francese non è mai davvero uscito dai radar bianconeri ma se la mossa la facesse l'Inter e se Antonio Conte volesse potesse togliersi lo sfizio di portare in Nerazzurro una sua creatura con la quale ha vinto due scudetti si chiede la gazzetta dello sport l'Inter ha bisogno di un colpo top a centrocampo l'ha messo in preventivo non è bastato Eriksen non sono sufficienti i sensi e Barella a rassicurare conto in quel reparto c'è bisogno di un giocatore possibilmente fisico che garantisca una buona quantità di reti con i suoi inserimenti insomma Pogba è il profilo tecnico ideale intendiamoci guai a correre troppo il nome dentro uno dei cassetti via la liberazione questo quanto però come vi dicevo prima bisogna anche vedere se poi si andasse a vendere al Barcellona Lautaro Martinez se nell'operazione rientrasse Vidal non penso che venga all'Inter per fare la riserva visto anche conoscendo il tipo di giocatore il suo carattere tutto è concatenato e andrà a incastri e ancora presto per capire quello che accadrà nessuno però si azzarda ancora ad aprirlo quel cassetto neppure marotta che Pogba lo portò alla Juve un'estate del 2012 colpo a costo zero dalla United oggi invece è una questione di ingaggio che andrebbe aggirata Pogba guadagna a Manchester 15 milioni di sterline 17 milioni di euro stipendio fuori portata per le casse nero azzurre certo occhio ad alcune variabili però prima Pogba ha un contratto di scadenza nel 2021 secondo il decreto crescita favorisce l'arrivo in Italia degli stranieri terza la variabile Steven Zhang che vive con fastidio il fatto di essere distante da Juventus che ha in testa un avvicinamento non troppo morbido al pianeta bianconero che ha voglia di mettere a segno la prossima estate un colpo ad altezza elevata però come dicevamo un conto prendere Messi e quindi anche se gli dai 30-35 milioni gli altri possono storcere un po' il naso però Messi e se volte pallone d'oro se però arriva Pogba che ha vinto non ha vinto come Messi non è un pallone d'oro e soprattutto le ultime stagioni sono state abbastanza complicate a parte la vittoria nel campionato del mondo con la Francia però un giocatore che va a guadagnare 17 milioni cioè più del doppio di quello il doppio esatto di Lukaku e molto di più di tutti gli altri giocatori della Rosa sarebbe una trattativa anche dal punto di vista dello spogliatoio molto molto difficoltosa e poi avanza Timo anche per la Gazzetta come vi dicevo io attenzione a buttarvi a tutto però il mercato avrà probabilmente volumi di cifre rivisti a ribasso la prossima stagione la prossima estate forse la voce grossa riuscirà a farla che avrà maggiori ricavi dai potenziali cessioni l'Inter ha una serie di dossier aperti in questo senso c'è quello di Cardi per il quale Marotta non dispera che si concluda positivamente riscatto da parte del Paris Saint Germain c'è il discorso Perisic ancora legato al Bayern Monaco c'è il nome di Vessino sarebbe sbagliato sottovalutarla a gennaio l'Inter ha trattato a lungo la sua cessione per 20 milioni di euro e poi inutile girarci intorno c'è Lautaro Martinez che non può essere dimenticato per il quale l'Inter è convinto in ogni caso di uscire vincitrice tenendolo o portando a casa da un addio una base cash elevatissima magari inserendo una o due contropartite guai a liberare il campo dal solito Vidal altro ex bianconero che poi il Toro andrebbe sostituito certo Cavani è opzione a costo zero ma il preferito è Eresta Timo Werner che già ha dichiarato di vedersi in un campionato diverso dalla Bundesliga l'Inter sa di potersi giocare apertamente le sue carte sul tedesco qui non ci sono cassetti chiusi per Pogba invece bisogna trovare la chiave giusta Zhang può e poi una mossa che sottolineiamo e di cui siamo felici i nerazzurri blindano il diciottenne Pirola uno dei talenti più importanti del vivaio nerazzurro per non rischiare di perderlo come Gnonto come Persin il difensore del 2002 maggiorenne dal 20 febbraio è pronto a firmare il primo contratto vero con i nerazzurri un contrattone visto che blinderà Lorenzo fino al 2025 e Conte che l'ha voluto il ritiro un'estate fa a Lugano stravede per lui possibile quindi che il diciottenne uno dei leader la primavera di Madonna possa avere spazio in prima squadra l'anno prossimo seguendo le orme di Seba Esposito anche lui pronto al rinnovo Mancino è molto futuribile poi sulla gazzetta Milan ti riporta in alto le parole di Teo Hernandez poi da domani Mezzà si allena Scisma Emiliano Lazio Campania e Sardegna ok oggi via libera a tutte le altre anche la Lombardia spinge il ministro Spadafora chiede un parere al comitato tecnico scientifico del governo subito Sassuolo Bologna martedì Lazio e Roma al via il Napoli è pronto anche il Cagliari ok la Spal frena pallone vietato le docce a casa un professionista si allena meglio in un centro sportivo che in città questa quanto ha detto il presidente Emilia Romagna Bonaccini che ha aperto il via risolvendo una diciamo anche misura come abbiamo sottolineato più volte sbagliata per turisti e non la maggioranza divisa sul calcio i dubbi di Conte Spadafora e Speranze più duri mentre nel PD c'è chi chiede una riflessione prima di staccare la spina questo è lo scenario che descrive la Gazzetta dello Sport che poi fa un'analisi del momento europeo ripartenza in Germania Colonia tre positivi al virus ma si va avanti non siamo in grado di minimizzare i rischi protocollo Bundesliga allenamenti tamponi e isolamento poi il progetto Premier parte dalla scelta degli stadi saranno lontano dai centri in zone con squadra in ritiro la fine del campionato come un mondiale tutti in ritiro poi le parole di Matuidi guarito dal virus che shock ti porta alla psicosi queste anche situazioni anche dal punto di vista psicologico da considerare per un'eventuale ripartenza assolutamente Corriere dello Sport viva le regioni è il titolo del giornale romano che si era spesso comunque schierato contro le misure restrittive del governo favorevole a una ripresa a tutti i costi del pallone il via libera di quattro governatori agli allenamenti individuali costringe Spadafora a rivedere la sua decisione da Campania Emilia Romagna Sardegna e Lazio l'ok alla ripresa in sicurezza e ora il ministro chiede al comitato tecnico di valutare l'estensione delle linee guida a tutti gli sport di squadra e poi Bonaccini esclusivo al presidente Emilia Romagna perché ha voluto riaprire il calcio un patrimonio sociale e industriale del nostro paese bisogna tutelarlo col buon senso si possono rispettare le regole siamo d'accordo col buon senso e con tutela massima della salute dei giocatori e anche non dimentichiamo tutti gli addetti ai lavori che compresi anche il sottoscritto gravitano intorno al mondo del calcio si torna in campo grazie alle regioni ci sono l'ok in diverse regioni le parole di Bonaccini poi Dela Delu Delaurentis e De Luca il Napoli va in campo il governatore De Luca accoglie la richiesta di Delaurentis e apre le porte di Castelvolturno ma prima servono due tamponi e poi prima i tamponi poi la Lazio sarà divisa in gruppi a Formello previsti quattro turni di entrata al massimo tre giocatori su cinque campi disponibili ecco i giallorossi Trigoria pronta e anche noi protocollo FIGC a caccia dell'intesa entro lunedì 25 maggio l'UEFA attende risposte vuole sapere quali squadre inserire nelle coppe Gravini aspetta il comunitato ci sono due settimane per far coincidere i parametri i nodi contagi e anche assicurazioni responsabilità civile nessuno la vuole troppi tamponi rispetto ai comuni un altro dei nodi che deve essere risolto Bivio giugno 13-14 o 20-21 il doppio piano della Serie A in bilico la Coppa Italia salta se si parte più tardi l'UEFA nel caso in Europa League va la settima in classifica Agnelli basta ripartiamo il presidente Andrea rompò ogni indugio e rivela l'intenzione del club bianconero anche l'Inter è favorevole a questo proposito dalle nostre verifiche che ha la ripartenza naturalmente con le precauzioni che ci vogliono e seguendo quanto decide il governo e il comitato scientifico andiamo alla pagina dedicata all'Inter Godin ora il calcio potrebbe far bene l'Italia lo ha cambiato e fortificato ma l'uruguayano è destinata ad andare via leggiamo l'Italia lo ha temprato magari non al punto da guadagnarsi una conferma per la prossima stagione perché probabilmente l'Inter farà altre scelte così per Diego Godin il nostro campionato è solo una tappa comunque formativa per crescere in cui ha scoperto un calcio nuovo e più impegnativo sto vivendo un'esperienza diversa ho imparato nuove cose ha detto ieri Godin in una diretta Instagram sto giocando nella difesa 3 come succede in nazionale ma in maniera più aggressiva difendendo a campo aperto e coro molti più chilometri dopo 20 anni di carriera è un grande cambiamento quindi anche questo vi può spiegare le difficoltà che ha avuto in questa annata cambiando completamente modo di giocare all'Atletico non torno quella è stata la fase più bella del mio percorso nel calcio ma ho voltato pagina al massimo potrò avere spazio in un'altra veste quando avrò smesso sarò sempre un loro tifoso Tottenham e Valencia oltre a Manchester sono i principali le principali pretendenti per Godin che proprio in nome di tutte le variazioni sul tema ha incontrato ha avuto difficoltà di ambientamento smarrendo alcune linee guida all'Inter mentre avanzava a grandi passi il giovane Bassoni ne ha parlato a questo proposito Fabio Galante con noi ho voluto farvi partecipare e mettervi a disposizione l'intervista completa che avete potuto anche vedere già su Sport Mediaset integrale però non fatemi pentire non fatemi far brutta figura andate a cliccare e anche perché è molto breve quindi fateci questo favore e poi la situazione in Italia il secondo paese del mondo in cui esplosa la pandemia sta migliorando ma non sappiamo ancora nulla quanto a ripartenza qui al nord è collassato il sistema sanitario l'Inter si è comportata dice Godin ancora in maniera esemplare mettendosi dalla parte dei dipendenti oltre che di noi calciatori ha sempre dato importanza alla salute secondo le disposizioni del governo anche se il calcio in questo momento può distrarre la gente ma ora le priorità sono altre e poi parla della tattica che già aveva curato con Simeone impiegato con continuità solamente in Champions League se penso agli attaccanti che mi hanno creato più problemi quest'anno mi ha in mente la partita col Parma due contropiedisti come Gervinio che rapidissimo e Kuluses che ci hanno complicato la vita e poi Lukaku anche le sue parole dopo l'ultimo mondiale ero molto deluso distrutto ora all'Inter mi sento come in missione tra una sfida e l'altra alla Playstation parla anche di calcio Lukaku e fa capire insomma quanta voglia abbia di vincere qualcosa anche lui con la maglia nera azzurra andiamo a tutto sport dove come vi dicevo in prima pagina c'è Timo Werner e anche quella carta Lazzaro che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi che potrebbe essere un apripista per la trattativa e far abbassare la quota cash sfida Juve Inter il rompe Werner no del bomber tedesco al Bayern Monaco preferisco un'esperienza all'estero duello tra bianconeri e nera azzurri però vi ricordo sempre che c'è il Liverpool in vantaggio sul giocatore Marotta la carta Lazzaro Paratici sarà un mercato creativo ripresa poi ancora un altro titolo via libera da domani agli allenamenti individuali in Emilia Toscana Lazio Campania e Sardegna partono Sassuolo e Parma poi al Bologna pronto Roma Lazio e Napoli arriva anche l'ok di Spadafuora il calcio vince se finalmente ritrova l'unità l'editoriale di Matteo Marani a cui naturalmente siamo sicuramente d'accordo Juve pianici o non pianici cosa cambia Werner è derby d'Italia andiamo a leggere il tedesco no al Bayern meglio l'estero duello Juve Inter Paratici sarà un mercato creativo Marotta Collipsia può giocarsi la carta Lazzaro la Juve lavora anche per liberarsi di ingaggi pesanti preferisco l'estero alla Bundesliga è questione di stimoli così Timo Werner con le dichiarazioni alla Bild che hanno chiuso la porta al Bayern di Monaco la pandemia avrebbe invece scoraggiato il Liverpool che è molto già investito negli ultimi anni a prendere un altro centro avanti che rischerebbe di rompere gli equilibri perfetti che regnano tra Salah Firmino e Mané a corredo il fatto che sia stato lo stesso Werner a scansare il corteggiamento del Bayern suona come un assist alquanto succulento per le italiane lo stimolo di andare all'estero mi stuzzica di più e quindi come non pensare alla solita sfida tra Paratici e Marotta che hanno già pensato al giocatore creatività serve alla Juventus che prima dovrà alleggerirsi di tanti stipendi pesanti come quelli di Pianici da Gagos Costa e Chedira che sono offerti un po' a tutti per quanto riguarda l'Inter deve risolvere i suoi riscatti vedere cosa succederà per Lautaro Martínez nel caso di una sua partenza può lanciare l'assalto a Timo Werner la lista pare ristretta a due nomi ovvero Aubameyang e Werner con cui i procuratori ha parato pure Marotta che non potrà giocarsi un jolly come CR7 ma che all'Ipsia può offrire Valentino Lazzaro obiettivo a gennaio dei tedeschi prima che finisse in prestito per un milione e mezzo a Newcastle il riscatto previsto per altri 23 e mezzo milioni fa pensare che l'Austriaco possa tornare alla base non è dato a sapersi se questo possa dare all'Inter un vantaggio su Werner certo è che stringendosi sempre di più la lista dei pretendenti è sempre più concreto il rischio che i due club entrino in rotta di collisione per un derby d'Italia infinito come scriveva anche la Gazzetta poi pagina dedicata all'Inter l'Inter rinnovo Lautaro al Barca ancora eco delle parole di ieri del mondo deportivo con la situazione mai più un altro caso Zagnolo dopo Esposito rinnovano pure Persin e Pirola grazie ai conti in ordine poi Lukaku già sprinta ma nel suo garage il Belga dopo la delusione di Russia all'Inter mi sento un uomo in missione da Senzia Candreva fino a Martínez e Brozovic così l'Inter si prepara al via con il bomber che segue i compiti a casa prima di salutarci andiamo a leggere velocemente anche Corriere della Sera e Repubblica le prime pagine dei giornali politici c'è naturalmente la fase 2 nel Mirino in prima pagina i tanti dubbi per il decreto del Ministro così l'Italia prova a ripartire le nuove regole Milano e Roma la folla che ora spaventa le città tanti tanti cittadini come vi dicevo senza leggere il Corriere della Sera ma è bastato vedere cosa succedeva a Milano in giro come se si fosse già quasi a una fase 3 norme meno rigide per l'autocertificazione così l'Italia prova a ripartire vietate le visite agli amici reddito di emergenza per 3 mesi lite sulle seconde case il governo il pressing delle regioni e poi Milano Roma è la folla che ora spaventa le città con la fase 2 l'Italia prova a ripartire saranno allentate alcune restrizioni da domani 4 maggio sarà possibile muoversi all'interno delle regioni di residenza passeggiare anche lontano da casa andare a trovare un congiunto per gli spostamenti per motivi di lavoro e l'attività motoria non è più indispensabile l'autocertificazione ripartono gran parte delle attività industriali si rimettono in moto il settore dell'auto e il manifatturiero la moda il tessile i cantieri edili e a questo punto prima di salutarci guardiamo anche Repubblica la prima pagina anche qui ci sono grosse polemiche sulla ripartenza con il governo virus l'Italia riparte ma i poveri raddoppiano e viene sottolineata la situazione economica la crisi che naturalmente sta creando a un po' a tutti gravi problematiche le nuove misure sia alle bici niente visite agli amici protezione civile per i trasporti l'emergenza allarme caritas in due mesi sempre più richieste di aiuto poi il lavoro da casa dopo la proposta di Landini il governo studia regole ad hoc per lo smart working a poche ore dall'inizio della fase 2 sono arrivati i chiarimenti del governo su cosa si potrà fare cosa sarà rimandato al 18 di maggio mentre si fa drammatica la situazione dei nuovi poveri ad aprile ne abbiamo assistiti quasi 40.000 in più spiega la caritas speriamo che quindi si possa ripartire in sicurezza e anche risolvere questo problema così grave solo uniti e compatti rimanendo a casa mi raccomando non mollate la presa bisogna ancora combattere questo maledetto virus tutti insieme Grazie.